Kikko is on fire suona bene quanto quasi Pioli is on fire. Patierno si è già preso il Francavilla, gol all'esordio stagionale contro il Messina, proprio come nella scorsa stagione. Un rigore perfetto, spiazzare Daga per la prima vittoria in campionato. Sapete benissimo che vivo per il gol, però l'attaccante per far gol ci vuole una squadra dietro che mi sostiene sempre. Quest'anno abbiamo una grande squadra, soprattutto fatta da gente che lotta e da grandi uomini e ogni domenica ci aiutiamo. A chi dedichi il gol? Sicuramente lo dedico alla mia famiglia che oggi erano in tanti in tribuna e poi a tutta la gente che oggi ci ha sostenuto dal primo al novantesimo minuto. Intanto dopo aver rinnovato i contratti dei big Ida, Maiorino, Miceli, Perez e appunto Patierno è stata la volta di Alessandro Caporale fino al 2025. Dopo le indiscrezioni c'è anche l'ufficialità, un prolungamento che sposa appieno le idee e il progetto della società del presidente Magri di aprire un ciclo a medio-lungo termine. Grazie.